Stop all'asta, il real sito di Carditello non rischia più la vendita e questa la buona notizia che arriva dalla regione Campania e mette un fermo alle proteste e le raccolte fondi avviate tempo fa per il recupero del sito borbonico. La SGA, la società di recupero crediti che attualmente in gestione l'attività relativa alla vendita all'asta del sito di Carditello ha annunciato la sua disponibilità a valutare la proposta di rientro in tre anni del credito vantato dalla regione Campania lasciandone invariato l'ammontare che è di circa 9 milioni di euro. E' questo l'esito dell'incontro di ieri convocato dal Presidente del Consiglio regionale della Campania Paolo Romano. Particolare soddisfazione per l'esito della riunione è stata espressa dai rappresentanti dell'istituzione regionale. Da cittadini accorché amministratori regionali hanno spiegato i rappresentanti casertani dell'Assemblea legislativa campana non possiamo che esprimere grande soddisfazione per il risultato di questo incontro avvertendo la forte esigenza etica di dover strappare l'importante sito monumentale alla vendita all'asta ed essendo già pronti a mettere in campo tutti gli strumenti necessari perché la regione possa finalmente recuperare il real sito alla nostra comunità. Grazie a tutti.